Ora è il professore Giovanni Pieretti dell'Università di Bologna di Scienze Politiche. Dunque, del Dipartimento di Sociologia, perché dal 29 luglio con l'entrata in vigore della riforma Germini le facoltà, ho la sensazione che non ci saranno granche più. Una botta in testa. Allora, io farò la figura di Fantossi perché mi sono scritto le mie cosine, ma non me ne vergogno. E forse farò la figura di Fantossi perché in quello che sto per dire c'è un po' di retorica. Lo spirito è quello di Ghezzi al quale faccio veramente complimenti col cuore per le cose che ha detto perché sono le stesse che voglio provare a dire io. Ma con un versante un po' più personale. Intanto io ci sono capitato per caso su questa associazione perché un mio studente, uno studente speciale, uno studente straordinario che si chiama Gianni Zappoli, che è nascosto là dietro, Casvargania, come si direbbe in bolognese, mi ha parlato di questa associazione, questi signori mi sono venuti a trovare e mi è parso importante che ci conoscessimo e poi vi parlerò anche di un progetto che abbiamo avuto in mente. Intanto è stato importante per me personalmente questo incontro perché mi ha permesso di ricordare, di rimettere insieme dei pezzi della mia vita. Io a vent'anni cantavo la canzone di Loredano Bizzarri ma forse non sapevo fino in fondo bene che significato aveva. Adesso lo so meglio. È merito anche di questi signori. La realtà però che abbiamo potuto vedere attraverso il lavoro, la documentazione veramente straordinaria che dovrebbe trovare posto in un libro nuovo secondo me è veramente una realtà bestiale, terribile, di sfruttamento disumano, non riesco a trovare delle parole diverse. Una realtà che abbiamo in parte dimenticato. Io debbo moltissimo a mio padre Adriano Defunto perché mi raccontava quel clima di intimidazione, di paura, di ricatto continuo che c'era per i lavoratori. I celerini di Scelba. Io ho visto il settimo celere Padova, sono stato picchiato tanti anni fa dal settimo celere Padova ma chi era stato picchiato prima di me mi ha detto che era roba da ridere. Che i celerini, quelli che passavano sopra alle biciclette con le macchine... Gli ex repubblichini di Salò. Beh questo io non lo ho detto, lo penso. Lo dico io. Ecco, questo è importante, pensare che in una città come Bologna, che era considerata modello dal punto di vista amministrativo in tutta Europa e perfino negli Stati Uniti, pensare che a Bologna, a Bologna non in un'altra città, ci fossero stati in quegli anni migliaia e migliaia di licenziamenti e delle lotte di una durezza di questo tipo non sembra vero visto oggi. Quel clima noi non vogliamo che torni più, certamente. Io non ho nessuna nostalgia per gli anni 50, io sono nato nel 51, gli anni 50 me li ricordo, mi ricordo il freddo, mi ricordo le difficoltà e mi ricordo tutto il resto. Speriamo di non averlo. Io credo di poter dire che quest'Italia per schifo che faccia è molto meglio di quella. Non ho nessun rimpianto, nemmeno per chi ci governava. C'è stata certamente una collusione molto forte tra le cosiddette forze imprenditoriali, che dobbiamo avere il coraggio di chiamare con loro nome, i padroni, e la classe politica nazionale di quel tempo. Quella classe imprenditoriale non era una classe imprenditoriale, erano dei padroni, da la A alla Z, pretendevano di comandare, pretendevano di togliere i diritti. Io credo di avere raccolto, tra le parole che ha detto il professor Ghezzi, una intuizione secondo me notevole. Gli sviluppi a due cifre di PIL si hanno solo con delle condizioni di quel tipo lì per i lavoratori. Mi sembra un po' difficile avere degli sviluppi dell'8% o del 10% all'anno se i diritti dei lavoratori vengono rispettati. Bene, allora noi a questi signori dobbiamo moltissimo. Dobbiamo lo statuto dei lavoratori, se non bastasse citare qualcosa di importante. Gli dobbiamo l'idea di giusta causa, è vero che è nata proprio forse insieme a loro nei primissimi anni 50. È nata con Di Vittorio, ma è nata concretamente attraverso le lotte e la fatica che loro hanno certamente fatto. Quindi gli dobbiamo tantissimo. Io ho detto che avrei fatto della retorica, questi signori sono i nostri eroi. Noi siamo qui perché ci sono loro, io penso che non ce lo dobbiamo dimenticare. Se poi le parole sembrano un po' troppo pesanti è lo stesso. Hanno fatto in modo che questo sia un paese democratico. Poteva tranquillamente non essere un paese democratico. Ghezzi prima diceva che bell'Italia sarebbe stata se fossero successe delle cose. Io invece voglio vedere il bicchiere dall'altra parte. Pensiamo che brutta Italia, ancora più brutta, sarebbe stata se questi signori non avessero tirato la cinghia a 20 anni e non avessero avuto quello spessore e quel fegato, quel coraggio che hanno avuto. Sarebbe certamente un'Italia molto peggiore. Probabilmente sarebbero successi chissà quali brutte cose. Chi ha la mia età mi capisce, credo, molto bene. Appunto a questi signori non è mancato il coraggio. È la cosa che voglio veramente sottolineare. E soprattutto non gli è mancato l'idea del bene comune. Non hanno lottato certamente solo per i propri diritti, ma hanno lottato per i diritti delle generazioni future. Questo mi sembra un'altra cosa che noi facciamo bene a ricordare in questa sede. Non hanno lottato solo per sé, avrebbero fatto meno fatica a cercare degli accordi individuali con il cosiddetto signor padrone. Hanno lavorato duramente e non hanno avuto paura. E hanno trovato però intorno a sé una solidarietà veramente incredibile, veramente straordinaria. E penso oggi apparentemente irripetibile. Io poi sono convinto dentro che forse non è irripetibile. Forse siamo noi che ci dobbiamo mettere degli occhiali diversi e ripercorrere queste storie. Bene, allora io sostanzialmente ho finito. Voglio dire che sono particolarmente onorato che questi signori abbiano accettato di venire da me all'università, agli studenti di sociologia e di servizio sociale a fare delle lezioni. Per me è un grandissimo onore. Vorrei che loro trasmettessero ai giovani l'esperienza che hanno vissuto, la testimonianza della loro vita e soprattutto che gli dessero un po' del coraggio che hanno avuto. Grazie. Grazie.